Ciao e bentornati su AlloTV Oggi andiamo a presentare la Canon PowerShot S5IS Andiamo ad aprire la confezione e controlliamo cosa troviamo al suo interno Abbiamo appena visto il software Questi sono i manuali cartacei in varie lingue Ecco altri accessori, sempre cartacei Andiamo a scoprire l'interno E queste sono le 4 pile di tipo AA che si trovano all'interno della confezione Una piccola SD da 32 MB Il cavo USB per la connessione al PC Ecco la cinghia della serie PowerShot Il cavo audio-video per la connessione al PC E adesso invece andiamo a scoprire il design della macchina fotografica La Canon PowerShot S5 è per i fotografi più esigenti La nuova ultracompatta di casa Canon con stabilizzatore d'immagine e schermo LCD orientabile Integra un'ottica professionale, funzioni video e nuove caratteristiche che ne fanno un piccolo concentrato di tecnologia Il design è leggero per un corpo macchina nel canonico colore nero delle professionali Reflex Canon Così si presenta Canon PowerShot S5 IS Che incorpora la nuova slitta compatibile con flash speedlight e X esterni Ed una gamma di accessori intercambiabili Come lenti di conversione quadrangolari e teleobiettivi per riprese ravvicinate La S5 monta inoltre un sensore CCD da 2,5 pollici Con una risoluzione massima effettiva da 8 megapixel e filtro a colori primari La Canon PowerShot S5 IS si distingue dalle altre macchine digitali professionali Per un caratteristico monitor orientabile ed il mirino ottico d'altra precisione Il monitor dispone di due livelli regolabili di luminosità Ed assicura una copertura dell'inquadratura al 100% In questo modo non solo chi effettua lo scatto ha maggior libertà di movimento e di angolazione Ma è anche in grado di effettuare scatti in qualunque condizione Anche da posizioni scomode o in condizioni di luminosità variabile A corredo di questi strumenti vi è anche la funzione per lato scatto Regolabile sia a 2 secondi che a 10 secondi Oppure con timer personalizzato Altre caratteristiche che segnano un surplus di questo modello Sono la correzione degli occhi rossi in fase di riproduzione L'immagine di avvio e suoni personalizzabili La possibilità di aggiungere appunti sonori alle immagini Fino ad un massimo di 60 secondi Ed ancora il sensore di orientamento intelligente e la possibilità di riproduzione di histogrammi live Canon PowerShot S5 dispone di un sistema di messa a fuoco TTL Con IAF Face Detection a 9 punti Ed un autofocus ad un punto disponibile in qualsiasi posizione o a centro fisso Altissima qualità ottica e zoom ultra potente Oltre a display orientabile dal mirino ottico Sono i punti di forza di questa ultracompatta professionale Accessoriata e personalizzabile Consente un gran numero di opzioni ed impostazioni Sia manuale che in automatico Per risultati ottimali Questa è la Canon PowerShot S5 IS con obiettivo retrattile Vi ricordiamo che la merce da noi venduta è sempre coperta da garanzia E che all'interno delle confezioni sono sempre compresi tutti gli accessori standard come da negozio Ciao a tutti e alla prossima recensione